bene buonasera a tutti ben ritrovati benvenuti grazie come sempre per dedicarmi il vostro tempo in questi orari se vogliamo anche un po' particolari ma probabilmente sono anche i momenti in cui abbiamo più tempo per noi stessi audio e video mi sembra che siano ok e quindi non voglio abusare della vostra cortesia e andrò subito in argomento innanzitutto voglio iniziare la giornata o meglio questa sessione con questo motto di Warren Buffett no un mito assoluto della capacità di realizzare investimenti finanziari a quanto pare le sue affermazioni sono sempre più ponderate e più calibrate direi Warren lo zio Warren come ci piace definirlo con un eccesso se vogliamo di confidenza eh ci trasmette sempre dei grandi insegnamenti che vanno evidentemente al di là di quella che poi la sua capacità di aver creato queste straordinarie fortune ossia non associa mai eh la capacità di realizzare reddito al tempo alla fretta all'impazienza tutt'altro è guallantuomo col tempo e adesso al di là della della battuta finale con cui chiude questo uno dei suoi motti più famosi eh giustamente evidenzia che gli investimenti di successo essersero sempre di tempo di disciplina e di pazienza tempo disciplina e di pazienza che vanno presi come tali sia che si sia fra virgolette in prima linea cioè sia se siamo noi a cliccare sulla piattaforma per cercare di raggiungere i risultati auspicati sia eh allora quando deleghiamo come nel caso della Pacello Trading Academy questa attività a terzi quindi non importa quanto sia grandioso lo sforzo ma è importante quanto sia grandioso il talento evidentemente che mettiamo in quello che facciamo perché parlo di tempo stasera perché eh chi ci segue da tempo probabilmente sa che abbiamo iniziato molto tempo fa con questa bellissima evidentemente avventura dedicata appunto al fenomeno del prop trading e in particolare alla gestione attiva del prop trading da parte della della pacello trading academy recentemente si è aggiunta alla alla famigliola fra virgolette la prop trading academy ne parleremo più in là però quando ho parlato di tempo è perché effettivamente noi abbiamo iniziato questo percorso molto tempo fa con risultati che vedete sono qui davanti ai vostri occhi quindi una persistenza una costanza un impegno direi non indifferente con un'oniformità anche di lettura dei risultati perché al di là del punto di partezza dei singoli distinguerete in queste centinaia di conti di persone che ci hanno dato appunto questa grandiosa fiducia una certa uniformità comportamentale salvo rare eccezioni insomma si muovono bene tutti insieme possiamo realizzare questa progettualità questa capacità evidentemente di avere un unico modo di relazionare con le persone unico modo di realizzare eventuali rendimenti soprattutto grazie al grande aiuto che è arrivato negli ultimi mesi dalla nascita della prop trading academy che non ci fa evidentemente problematica alcuna di cosiddetto prop trading e come sempre spero appreziate evidentemente la mia la mia chiarezza ci sono degli esempi molto belli li vedete questa è una classifica di quasi tutte non sono tutte in verità le challenge che seguiamo con diverse realtà vedete qui c'è fintocchi c'è ftmo c'è fan the next ci sono tante prop trading academy di questo vi ringrazio per me è un grande gesto di fiducia evidentemente le prop trading academy lo vedete subito hanno iniziato da poco tempo insomma il rendimento è già direi molto interessante abbiamo uno dei nostri clienti più recenti che è già al 5 per cento stiamo propotendo in questo caso come servizio le one step ma ripeto ne parleremo però sempre in grande trasparenza è ovvio che ci sono esempi di grande piacevolezza di grande redditività alcuni si sono appena avviati altri lo stanno per fare ci sono anche evidentemente delle chiavi di lettura negative però qual è il filo comune il filo conduttore unico di queste situazioni ne vado a evidenziare magari una in particolare che noi non lasciamo nessuno indietro e abbiamo un enorme difetto il sottoscritto un enorme difetto io le challenge non le brucio quindi a costo evidentemente di risultare un po' se volete lento nel tempo quindi di avere un passo abbastanza ponderato e senza mai fare voli pindarici ci mettiamo di più ma vi garantisco che arriviamo tutti a target e la storia lo sta evidentemente dimostrando oramai abbiamo molti di voi vicini al raggiungimento dell'obiettivo c'è sufficiente molto banalmente che il top super trend e biturbo riesca a centrare evidentemente il prossimo segnale e vedremo scattare una decina di conti diventare finalmente funded e chiaramente poi dare i benefici attesi alle varie persone quindi ho voluto parlare e ho voluto approfittare dello zio Warren no il cui motto mi permetto di riportare subito in visualizzazione noi stiamo realizzando una storia di successo noi stiamo realizzando stiamo intraprendendo intraprendendo una strada di successo stiamo portando decine e decine di persone ad avere una capitalizzazione che perdonate un po la pochezza della definizione neanche si potevano sognare la notte senza che questo rappresenti per queste persone in alcun modo di rischio finanziario perché il rischio finanziario univoco è il costo della challenge quindi secondo me stiamo percorrendo una strada davvero molto ma molto importante pensate che in questo momento abbiamo fatto due conti proprio pochi minuti fa prima della trasmissione stiamo tra virgolette monitorando seguendo applicando le nostre strategie su più di 11 milioni di controvalore di conti sono numeri che appartengono evidentemente a un fondo comune di medie dimensioni a gestioni patrimoniali più o meno importanti e che raramente possono essere associati evidentemente al trading online tradizionale ci riusciamo non perché facciamo una magia ci riusciamo perché stiamo sfruttando la straordinaria opportunità che appunto ci offre la leva finanziaria indiretta del prop trading quindi sarà vero che sono conti demo sarà vero che sono cosiddette challenge sarà vero che vanno superate però allora quando ci riusciamo abbiamo a disposizione un capitale davvero molto ma molto adeguato peraltro ho spostato sulla prop trading academy parte delle mie presenze quindi tutti i clienti della prop trading academy possono fruire gratuitamente una volta clienti del mio webinar del lunedì che piaceva a tanti vengono tutti registrati in tempo reale sono visibili sul nostro canale telegram e via dicendo però ripeto adesso il focus non è la prop trading academy quanto l'opportunità del prop trading quanto associare evidentemente questa questa opportunità a quello che avete visto qui ossia questo bel portafoglio di utenti che ci hanno dato fiducia che evidentemente sta crescendo giorno per giorno detto ciò andiamo subito in argomento la pacello trading academy ha deciso di rafforzare evidentemente la propria presenza e il proprio modus operandi su due particolari offerte la prima abbastanza storica e nota che è quella appunto che riguarda il top super trend biturbo un expert advisor che stiamo sviluppando oramai da direi da due anni abbiamo superato i due anni di attività che è arrivato peraltro nei giorni attuali alla release numero 53 che contiene una quella che ritengo sia stata probabilmente una delle intuizioni più intelligenti e interessanti che evidentemente erano state messe in che finalmente siamo riusciti a realizzare abbiamo potenziato nella 5.3 ulteriormente il modello di money risk management e come spero di potervi far vedere fra pochi minuti i risultati sono davvero esaltanti iniziamo a parlare di equity line sempre più regolari e in cui andiamo quasi ad annullare il rischio di stop loss molto elevati che sia in ottica trading tradizionale che sia in ottica evidentemente trading online è doveroso però fare qualche piccolo passo indietro cioè dove eravamo il set migliore di cui abbiamo spesso parlato negli ultimi mesi a mio parere si è rivelato essere dopo due anni di attività quello sull'euro dollaro con un target abbastanza come dire limitato un target di 2.500 euro o se preferite su un conto da evidentemente da 100.000 del 2,5% se volete definiamolo in percentuale eravamo già molto soddisfatti di questi risultati guardando il semestre in corso oramai superato realizzavamo un equity di questo tipo la caratteristica di questa equity era che evidentemente una bella tendenza a salire però ogni tanto come credo nessuno di voi possa disconoscere nella vita sì tante piccole fasi costanti di accumulazione target 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 questi sono tutti target in sequenza quindi ci ha regalato adesso non li vado lì a contare ma fino ad aprile vai facciamo 3 6 9 10 target consecutivi per un accumulo quindi di 25.000 euro di risultati o del 25% di rendimento poi è arrivato un doveroso stop poi ricominciamo con i target poi arriva un altro stop e poi ricominciamo con i target riconoscete in questo andamento probabilmente il top super trend biturbo ve l'ho fatto vedere già in passato non è un set nuovo è un set fra virgolette storico dal punto di vista squisitamente pratico che sia in ottica prop trading o meno non ha importanza ognuno scelga il modus operandi tutto è giusto e tutto è legittimo di fatto abbiamo un equity che punta in maniera abbastanza decisa verso l'alto con delle fasi a mio parere di assestamento decisamente fisiologiche e che realizza nei sette mesi oggetto di questa misurazione visto che luglio oramai è quasi finito il 41 per cento il 42 per cento di rendimento con un rischio di drawdown del 4 per cento pensate quindi dietro tu migliori questa cosa qui beh ci provo perché no ma la cosa più interessante di questo modello ritornando un attimino alla visualizzazione della sua tabella è che in questi sette mesi innanzitutto non ha mai almeno per ora anche se luglio non è favoloso però non ha mai perso nessun mese quindi ha sempre portato a casa un buon risultato più o meno eclatante il totale è eclatante i riferimenti che vedete sono su un conto prop da 100.000 euro quindi tutto rapportabile quindi 41.900 dollari di guadagno il 41,90 per cento ma la cosa più interessante del questo set storico antico evidentemente che state osservando è che la percentuale di successo è decisamente molto ma molto interessante mi sembra che qualcuno dichiari problemi di visualizzazione io continuo a leggere chi non arriva l'audio chi non arriva il video spero che vada tutto bene mi confermate se audio e video sono ok almeno nella maggioranza di voi siete in tanti collegati stasera quindi spero che perfetto grazie Andrea quindi non mi faccio più distrarre evidentemente non perché non voglia ma perché non saprei come rimediare onestamente probabilmente avete un problema tecnico sul vostro computer vi conviene riavviare e rientrare subito in trasmissione quindi vi dicevo la cosa più interessante di quello che posso oggi definire essere un vecchio set e comunque al di là della performance che è il primo riferimento che guardano tutti e io vi ho detto più volte non guardate solo la performance per l'amor di dio è importante ma non è tutto dovete immaginare che quando noi facciamo queste attività di simulazione di backtesting del passato e poi le applichiamo sul reale viviamo una fase di simulazione in cui la parte emotiva scompare cioè per noi una linea guardiamo dove è iniziata sì ho preso lo stop sì qui ha decelerato sì qui si è un po appiattito però alla fin dei conti sono arrivato qui beh questo è il concetto simulato del trading semplice bello esaltante la verità è che voi dovevate poi essere capaci durante ogni singolo segnale di non chiuderlo prima di sfiorare a volte lo stop e poi realizzare il guadagno di subire lo stop perché fa parte evidentemente della normale e fisiologica dinamica e di qualunque modello di investimento per poi poter dire realmente sono arrivato partito da qui e sono arrivato quassù allora ci sta però dal punto a al punto b c'è una storia c'è una storia emotiva ed emozionale e quindi la cosa che mi piace comunque del set storico che ti dice ok io sono capace di farti quel risultato ma ti espongo ad un rischio basato su centomila dollari di perdere cinque mila e cinque che secondo me è un rischio assolutamente più che fisiologico visto il risultato ottenuto ma soprattutto ti ho fatto 50 operazioni dall'uno di gennaio e te ne ho indovinate l'88 per cento vuol dire viaggiare con una percentuale di successo numerica ma anche poi psicologica straordinaria ricordatevi che nel trading non è un modo di dire la componente psicologica è sempre di straordinaria prepotenza e se vogliamo anche il richiamo di Warren Buffett è un richiamo alla psicologia del trading no tempo disciplina pazienza quindi non bisogna farsi prendere dalla componente emotiva che molte volte si trasforma soprattutto nella fretta quello non va mai bene non ci vuole fretta ci vuole timing ci vuole evidentemente un robusto modello di money risk management ma la componente emotiva è sempre da tagliare bene questo è a ci fa viaggiare con una situazione di incidenza emozionale molto ma molto approcciabile e questo era il punto a l'inizio poi che cosa vi ho detto che negli ultimi giorni mi sono messo in verità era diverso tempo che volevo realizzarlo questo è proprio il modello che sta marcando a uomo no alla trapattoni d'euro dollaro questo è proprio il modus operandi del sistema nella sua come dire rappresentazione grafica e quello che fa e quello che farà stiamo aspettando il prossimo ingresso adesso ma siamo abbastanza lontani purtroppo abbiamo fatto target ora siamo un po fermi e dal punto di vista operativo quello che abbiamo insegnato al computer è ulteriormente potenziare la capacità di gestire il post ingresso abbiamo aggiunto nelle modalità di monetizzazione altri due modelli di money e risk management che stanno facendo oggettivamente la differenza salvo un attimino questo rapporto perché l'ho appena elaborato poi vi dirò anche perché un attimino solo di pazienza e sono subito da voi ok ecco è una cosa che ho finito di elaborare mentre iniziava la nostra chiacchierata quindi abbiamo potenziato questo concetto di money e risk management non abbiamo toccato nulla dell'infrastruttura storica di questo stupendo expert advisor e siamo arrivati alla cosiddetta vip edition cos'è la vip edition ve lo dico fra un attimo continuiamo a ragionare sul super trend come utilizzo individuale cioè della possibilità che noi lo si metta a vostra disposizione con una licenza su dieci conti e voi lo utilizzate su con il broker che preferite con la prop che preferite purché evidentemente lavori in mt4 o in c trader detto questo dove siamo arrivati abbiamo fatto direi un bel salto di qualità con questa implementazione costosa sia in termini di tempo che economici per il sottoscritto e passiamo da questi numeri che state osservando adesso a questi altri ancora una volta immagino che molti di voi si stiano soffermando sul rendimento sale ancora dal 42 per cento andiamo al 48 la percentuale di successo rimane straordinariamente favorevole aumentano il numero delle operazioni non perché prima erano 50 ricordate ma non perché il sistema faccia più operazioni di prima semplicemente perché le abbiamo insegnato a monetizzare parte dei guadagni man mano che li realizza quindi se vogliamo un equity line meno nervosa un po più blanda che poi in termini di risultati assoluti da dei numeri direi straordinariamente efficaci la cosa più importante per chi sa un po di statistica finanziaria il profit factor va a un valore 4 che su 7 mesi di lavoro è un valore di sostenibilità quasi quasi evidentemente irrealizzabile il drawdown rimane assolutamente controllato mettendo a confronto queste due equiti quindi simulando proprio per vederne un confronto visivo probabilmente come è successo a me percepirete che è stato fatto un ottimo lavoro ma non un lavoro in cui sì il rendimento finale aumenta d'accordo è stato fatto un buon lavoro perché siamo riusciti ad ammorbidire le dinamiche di stop che abbiamo visto nella precedente versione sono molto più morbide e alla fine il totale ci dà ragione eppure questa è una stesura ancora iniziale io non ho nascosto a nessuno dei nostri affassionati del top super trend biturbo che io una volta che l'ho avuto finalmente dai miei programmatori mi sono messo lì un weekend a giocarellarci un attimo e ho cercato appunto basicamente di migliorare il set che già mi piaceva tanto della precedente release credo di esserci riuscito ma ho già anticipato ed avvisato coloro i quali ci seguono in questa avventura che siamo neanche secondo me a metà strada si può migliorare di tanto infatti pochi minuti fa mi è venuto un'idea che non ho ancora condiviso con il gruppo e che vado a condividere con voi adesso la sto guardando per la prima volta in diretta con voi come avete visto e ve l'ho detto prima l'ho appena elaborata l'idea è un po' particolare un modus alternativo di utilizzare le a e come vedete l'equity che disegna è ancora migliorativa quindi riuscivamo riusciamo ancora ad aumentare il rendimento confrontando le tre equity quindi creando un portafoglio modello qui le vedete una sovrapposta all'altra beh direi che c'è da come dire divertirsi ho percorso una strada davvero particolare un'intuizione del modus di utilizzo del top super trend biturbo e a versione 5.3 e il primo risultato perché l'ho elaborata mezz'ora prima di entrare in trasmissione mi sembra molto interessante quindi si conferma la bontà di quanto ho affermato oggi nel gruppo telegram bip super trend perché abbiamo creato un gruppo apposito di studio e di elaborazione con la release 5.3 c'è ancora tantissima strada da fare non in termini di inventarsi qualcosa probabilmente non abbiamo più margine di manovra no a me per me sembra un prodotto oramai davvero di altissimo livello difficile poterlo potenziare onestamente non ho neanche l'intenzione sono soddisfattissimo così immagino anche voi vedendo questi numeri possiate condividere la mia soddisfazione quello che invece si può fare tanto e ottimizzarlo meglio perché sono aumentate in maniera esponenziale le variabili di potenziale calcolo e ottimizzazione quindi non basta spenderci un'ora per tirar fuori qualcosa di molto più bello di quello che state vedendo eppure sono convinto che si possa fare e affido ad alex e agli altri del gruppo evidentemente questo questo compito quindi questo è il top super trend biturbo ea che da sempre storicamente è disponibile in licenza di acquisto con scadenza annuale e quindi vi invito a prenderlo in considerazione perché sono sicuro che vi potrà rendere tra virgolette un lavoro di alta qualità parliamo di performance e qui non parliamo più di emozioni la favoletta di warren buffett e quant'altro qui parliamo di numeri questi sono numeri incontrovertibili peraltro ci tengo a specificarlo il top super trend biturbo almeno come io l'ho concepito e come lo utilizzo non lavora su dinamiche temporali basse non fa operazioni su grafici a 5 10 minuti lavora su grafici h4 soprattutto lavora sulle candele chiuse h4 da cui si deriva che allora quando vengono dati i vari segnali di ingresso e di uscita dal mercato quindi adesso lo vediamo in tempo reale magari eccolo qua la differenza perché di trading system in circolazione ce ne sono a tonnellate il problema molte volte sta nel fatto che sottengono le logiche di intervento sul mercato evidentemente un po più vulnerabili magari lavorano con time frame molto bassi magari lavorano a barre aperte e non a candele chiuse e quindi ci può essere un grande sfrido permettetemi di definirlo in questo modo fra l'andamento del sistema e la resa reale allora quando lo montate sul mercato quando invece si lavora come fa il top super trend biturbo su dinamiche h4 quindi molto lente molto misurabili molto verificabili lo sfrido che ci può essere fra una simulazione la messa in opera è davvero bassissimo c'è ci sarà sempre però è molto ma molto limitato quindi noi abbiamo oggi a disposizione un ea che sia in utilizzo individuale o in utilizzo evidentemente da parte nostra ha una percentuale di rendimento ancora metà anno incredibile fosse anche ma ripeto sto esagerando volendo anche tagliare questi numeri del 30 per cento dove fossero poi realizzati fino a fine anno credo che nessuno li potrebbe disconoscere con la elaborazione attuale che ho fatto il profit factor va al 5.07 ripeto per chi sa un po di statistica e di via dicendo sa che questi sono numeri incredibili quindi il top super trend biturbo direi un progetto avanzatissimo a disposizione di tutti e vi invito evidentemente qualora vogliate approfondire la tematica del top super trend biturbo ea per utilizzarlo fino a 10 licenze con qualunque broker mt4 voi vogliate e anche c trader anche se sulla c trader ci stiamo onestamente ancora lavorando un po se volete avere poi un one to one con un nostro responsabile commerciale che peraltro vi potrà mostrare le a all'opera come sto facendo io i nostri commerciali non sono persone lì che si mettono solo a chiacchierare hanno la capacità perché lo utilizzano sono stati i primi a comprarlo di farvi vedere come lavora sul campo sul terreno e quindi è una chiacchierata che vi invito a fare a prenotare perché probabilmente ne varrà la pena e questo è il modus number one di utilizzare il super trend e l'offerta numero uno della prop trading accade della pacello trading accade come vi dicevo poi io qualche l'anno sì l'anno scorso sostanzialmente un annetto fa oramai ho iniziato a studiare il fenomeno delle prop come prop trader quindi non come attualmente invece è fondatore di una prop company di una prop firm l'ho studiato semplicemente come opportunità per utilizzare capitali di terzi invece di utilizzare i miei soldi sul mercato di limitare il rischio economico alla componente fee e non più a denaro reale e nell'esplorare questa opportunità è nata l'idea della dei servizi cosiddetti VIP della pacello trading academy ossia noi abbiamo sviluppato oggi un servizio sostanzialmente completo soprattutto grazie a questa come dire opportunità che poi ci è stata data dalla nascita contestuale avvenuta quasi tre mesi fa della prop trading academy abbiamo creato quindi una sorta di servizio ancora una volta VIP VIP non vuole essere un qualcosa di di particolare va un po ad identificare con questo acronimo una volontà di seguire in maniera molto ravvicinata alle persone che si affidano a noi e quindi in una bellissima riunione che si è tenuta in un albergo vicino all'aeroporto di Malpensa io arrivavo da uno dei miei soliti viaggi e tutto il team si è riunito lì abbiamo gemmato il servizio VIP pass challenge no è nato davvero pochissimo tempo fa e molti di voi non lo conoscono ancora anche se altri lo hanno già pienamente sottoscritto e credo siate anche soddisfatti a vedere i recenti numeri compresi quelli di oggi poi ne parliamo in buona sostanza in alternativa all'utilizzo individuale del top super trend biturbo che comunque viene assegnato ai clienti VIP che possono anche gestire discrezionalmente qualche altra challenge ne abbiamo previsto tre pacchetti in buona sostanza cioè andiamo a creare in un unica componente un'offerta completa completa sia della parte di gestione manutenzione amministrazione del software che curiamo completamente noi sia evidentemente dell'acquisto delle challenge quindi abbiamo l'offerta ad esempio la più bassa la più light se volete anche quella più economica che è nata a 3.500 ma adesso la stiamo offrendo a 3.000 d'estate in cui l'utente parte subito con una dotazione di 150.000 dollari di capitale prop il che evidentemente dovrebbe permettergli nell'arco dei sei mesi che è il periodo massimo che ipotizziamo di recuperare questo investimento e avere evidentemente anche i relativi benefici perché ricordo che il servizio sarà rimborsato se entro sei mesi non riusciamo a fargli recuperare l'investimento che ha fatto con noi questa è una garanzia più importante di un grafico onestamente oppure c'è la proposta B la via di mezzo anche se secondo me sarebbe la vera entry list quindi con 6.000 euro di sottoscrizione utilizzo del software top super trend e biturbo più in abbinamento tutto il nostro lavoro di gestione di finalizzazione delle challenge e in questo caso l'utente ha a disposizione già 500.000 dollari di challenge fatevi due numeri fatevi un'idea in base a quello che avete visto prima iniziate a immaginare dei multipli direi importantissimi di redditività si può ovviamente anche doveroso allora quando i conti sono fande lo dico sempre essere un po più prudenti però pur essendo prudenti con mezzo milione a disposizione pur facendo l'un per cento al mese che un terzo di quanto ha fatto le a fino ad oggi beh mi sembra che i numeri quadreranno molto presto e infine c'è l'offerta se vogliamo più alta che anche quella che si associa a un'idea patrimoniale evidentemente tonda e consistente un milione di dollari di prop subito a disposizione dopo aver comprato il pacchetto con un costo giustamente più elevato e via dicendo questa è la proposta 2024 del servizio vip pass challenge alternativa o se volete complementare all'utilizzo individuale del software dopodiché poiché alcuni ci hanno anche chiesto se era possibile tra virgolette rateizzarla per noi non è un problema abbiamo previsto degli schemi di rateizzazione perché evidentemente noi le challenge le dobbiamo comprare però tutto è fattibile quindi ancora in questo caso vi invito a sentire il team vip pass challenge perché sapranno darvi pieno supporto e pieni chiarimenti su tutto quello che che avviene cosa do in più cosa posso cercare di dare in più nel vip pass challenge vi ho raccontato neanche qualche minuto fa che il top super trend biturbo è andato a target recentemente ve lo faccio anche vedere dov'era il target scusate dov'è il grafico eccolo sto cercando il mio grafico eccolo qua ha realizzato target nell'ultima operazione perché in buona sostanza ha comprato qui ed ha chiuso tutte le operazioni qua su peraltro anche questa bella divergenza ma non era oggetto di calcolo e adesso sta aspettando il nuovo segnale cosa succede al servizio vip quando evidentemente non abbiamo segnali operativi siamo lì a guardare a far la muffa come dice il buon virgilio che saluto no cerchiamo di far qualcosa in questo caso io mi prendo la responsabilità evidentemente di valutare delle operazioni discrezionali che non avranno mai e lo dico subito la violenza la forza del top super trend biturbo ma servono a come dire a cercare di facilitare quell'avvicinamento al target obiettivo delle passe lo abbiamo fatto anche oggi lo facciamo con estrema facilità per tutti coloro i quali perché noi non imponiamo la scelta della challenge e questo sia chiaro una persona può dire voglio fare il servizio vip però le challenge non devono essere la propria trading accardi devono essere di fintocchi devono essere di ftmo di fan del nex potete evidentemente scegliere quella che volete però ho già detto l'uniformità dei valori l'uniformità dei tic size dei simboli rende più efficace concentrare l'attività con un unico fornitore di prezzi quindi noi ci troviamo molto facilitati perché in questo momento credo non ho fatto non ho un numero preciso ma il 75 per cento dei nostri clienti vip si è fidato della prop trading academy quindi abbiamo potuto utilizzare un unico fornitore di prezzi e oggi ad esempio per non starli fermi a guardare e per non inventarsi un set al giorno perché non condivido questo approccio onestamente io ho cercato due operazioni guardate ora vi dico una cosa molto particolare non sono operazioni che hanno l'ambizione di cambiare la storia di una prop perché vi ho già detto dall'inizio io vado davvero pian pianino e tranquillo però hanno come dire l'idea di aiutare e di avvicinare di realizzare quei due tre punti percentuali in più che il sistema non avrebbe fatto in quanto fermo e lo faccio in quest'ottica oggi c'erano due grafici di straordinaria scusate c'erano due grafici di straordinaria chiarezza bellissimi sono voi sapete che sono un appassionato di analisi tecnica e questi grafici non parlavano questi veramente sono ancora emozionato quando li guardo oggi per la loro davvero la loro chiarezza e quindi in questi casi quando vedo qualcosa di particolarmente valido io faccio del discrezionale per i nostri clienti VIP quindi io stamattina ho visto lo aspettavo da mesi avevo tracciato questa linea che ora vi enfatizzo con la mia lavagnetta mesi fa la stavo aspettando ne parlavo con un caro collega che tutti conoscete ma che per privacy non cito dico arriverà lì caro Saverio vedrai che ci arriva e ci ritorna e quando ci arriva farà una bella reazione prima seconda terza volta la quarta dal basso e oggi la quinta dall'alto parliamo di dollaro yen io stamattina quando l'ho vista realizzare ho scritto nel gruppo VIP ragazzi provo a fare qualcosa indiscrezionale perché il mercato non ci vede entrare col top super trend sull'euro dollaro quindi siamo fermi ora questo tipo di innesco in cui c'è un'osservazione come dire sul lungo termine meriterebbe più profondità di azione per me questo long andava tenuto però io lo faccio in una logica di aiuto e non di stravolgimento evidentemente dell'andamento non posso permettermi ad esempio di introdurre un'operazione discrezionale creare dei danni non dei benefici strutturali al modello della prop però devo cercare di aiutarle lo faccio volentieri mi prendo questa responsabilità oggi abbiamo puntato sul dollaro yen e poi nel pomeriggio dopo che ho chiuso con due bei target dollaro yen ho fatto anche dollaro card credo riconosciate anche la matrice di questa operazione sono le mie solite cose è un grafico che parla anche questo da solo e in effetti poi ha dato anche lui il suo piccolo gain l'ho chiuso molto presto perché si è creata una situazione particolare di non mia tranquillità onestamente emotiva e in questi casi preferisco portare a casa e dire buona anche questa e alla fine dei giorni alla fine della giornata sostanzialmente su un conto da 200 mila euro che è questa challenge che osservate che di uno di voi ma non dico di chi sono riuscito a creare un utile aggiuntivo evidentemente di 573 dollari quindi ho aiutato questa challenge nel suo cammino con un piccolo incremento non lo faccio spessissimo ma quando ci sono situazioni come quelle che ho evidenziato non mi tiro certamente indietro quindi la sostanza qual è che al di là evidentemente di un rapporto come dire un po schematico se vogliamo tu paghi compriamo le challenge le gestiamo ti arrivano i payout contenti tutti se non va bene ti rimborsiamo al di là di tutto questo come vedete c'è molto di più perché c'è anche una presa di posizione e anche una responsabilizzazione davvero elevata da parte del sottoscritto allora quando evidentemente in assenza di segnali decide di fare di percorrere la strada dell'adorato trading e dell'analisi tecnica lo faccio raramente e lo faccio solo ed esclusivamente per aiutare il e per velocizzare il raggiungimento degli obiettivi della challenge però se dovessimo fare una tabella di incidenza io incido nel risultato complessivo della challenge probabilmente al 2 3 per cento cioè non è che vado ripeto a stravolgerne l'andamento forse un punto 2 del risultato obiettivo generale riesco però a realizzarlo io manualmente se necessario evidentemente continuerò a farlo le challenge valerio non sono già funded perché una challenge funded di queste dimensioni non esiste se esistesse avrebbe un prezzo incredibile ti faccio vedere subito un esempio valerio per essere chiaro un parametro diretto con la prop se noi parlassimo di challenge è già funded per darti un'idea no ricorda un po se mi posso permettere questa tabellina con 6 mila euro ti metto a disposizione 500 mila dollari di challenge ok ricordiamoci 6 mila sta a 500 mila bene se io vado in quelle che sono che è l'attuale offerta della prop trading academy che peraltro è molto simile a quella di altre realtà e volessi comprarle già fund ed esistono una challenge instant funding da 10.000 k 10.000 euro mi costa 569 dollari per realizzare mezzo milione ne dovrei comprare una cinquantina quindi vado evidentemente fuori budget ora abbiamo creato la 20k ma siamo sempre là i numeri non tornerebbero siamo quindi costretti per una questione evidentemente anche di equilibrio economico altrimenti l'offerta quanto dovrebbe costare a virare o sulle double step o sulle one step poiché il nostro top super trend biturbo ben tarato non soffre di grandi drawdown giornalieri riusciamo a controllarlo noi abbiamo deciso di offrire ai nostri clienti le famose 200k ci stiamo dentro con i numeri evidentemente quindi quando un cliente sottoscrive il pacchetto ha speso 6.000 per dargli 500k di challenge ne spendiamo 2.500 il resto è il nostro lavoro non 3.000 quasi 3.000 ne spendiamo con questo ci stiamo dentro quindi in questo momento e ti ringrazio per il tuo per la tua domanda quando diciamo che ci sono a disposizione mezzo milione di challenge prop stiamo parlando nel caso di specie della nostra iniziativa di appunto un controvalore di 500.000 dollari one step quindi abbiamo un solo obiettivo realizzare per il cliente il 10 per cento allora quando nell'arco di 2 3 4 5 6 mesi dipende dal mercato perché come ho già detto dipende da quando arrivano i segnali da come sono non è che ce le possiamo inventare le cose allora quando abbiamo realizzato l'obiettivo del 10 per cento il nostro lavoro finalmente inizia a essere un po' più rilassante e come vi facevo vedere prima non so se ce l'ho ancora da qualche parte non è che siamo molto come dire lontani da che ciò accada su tantissimi clienti no ne abbiamo uno già al 5 50 un altro a 6 insomma direi che siamo a buon punto del cammino ok quindi io sono davvero soddisfatto del lavoro che stiamo facendo ti ringrazio benedetto sei il terzo ultimo arrivato e come hai visto ti sono state assegnate 500k di challenge inizia il tuo percorso inizia il tuo cammino e noi evidentemente auspichiamo che segua quella storia che ho messo non per caso all'inizio no quando vi ho fatto vedere la dashboard aspettate che devo nascondere i nomi se no facciamo una brutta figura stasera e non è il caso perché sono i vostri nomi vedo che alcuni di voi sono collegati e non voglio evidentemente svelare le vostre cose quindi vado qui eccoli qua queste sono le challenge vi dicevo in termini di rendimento assoluto se il mio target è il 5 e l'8 per il 10 per cento perdonatemi come potete vedere da questa visualizzazione un po distorta per coprire i nomi delle persone questo sta all'otto questo sta al 5,3 5,1 5,1 perciò dicevo allora quando evidentemente dovessimo riuscire ad avere dal super trend un aiutino quindi senza che io sia costretto a intervenire quindi se il super trend ci fa ad esempio i prossimi due segnali a target ragazzi queste persone che ho appena come dire evidenziato avranno superato tutta la challenge ci bastano in questo caso una sequenza di due segnali positivi del super trend perché ogni segnale più o meno fa portare a casa 4000 euro quando è pieno qualcosina di più ce ne bastano due per accontentare subito questo bel gruppo di persone e poi evidentemente come è successo anche per loro passare anche agli altri tanto come vedete lo vedete dalla distribuzione dell'equity noi copiamo tutte le operazioni noi abbiamo fatto un investimento enorme ci costa una barca di soldi onestamente abbiamo comprato un software da una società che si chiama duplicium che pubblica non è che lavora per noi io non li conosco neanche era online abbiamo comprato da loro una tonnellata e mezzo di account facciamo copy quindi in buona sostanza la piattaforma che guida tutto è questa piattaforma che state osservando una piattaforma dove ci sono 5000 dollari piccolissima che però il cuore pulsante del tutto perché sui nostri server c'è montato il sistema questa è in locale adesso ma è proprio lei infatti riconoscerete oggi probabilmente le operazioni che ho fatto vedere prima eccole qua le tre operazioni vi ricordate io ci tengo un po a mostrare queste storie di coerenza vi ho parlato di tre operazioni che ho fatto manualmente le ho fatte come vi ho appena detto da questa piattaforma io lavoro solo su una piattaforma e poi il sistema automaticamente respara alle altre in proporzione questa è una piattaforma da 5000 dollari e quindi ha fatto operazioni da 0 10 questa è una piattaforma da 200 mila dollari e quindi ha fatto operazioni da due lotti ok quindi 20 volte quello che ho mosso io tutto proporzionale tutte uguali su una piattaforma da 200 mila ho guadagnato 573 sulla piattaforma da 5000 2952 tutto regolare quindi questo è quello che evidentemente facciamo giorno per giorno per cui dicevo ci bastano i prossimi due segnali buoni se abbiamo la fortuna o meglio se il top super trend biturbo perché poi la fortuna è relativamente importante in queste cose c'entrerà i prossimi due segnali magari uno bello pieno e un altro in cui cerchiamo di aiutarlo noi perché io evidentemente non mi tiro indietro beh il gioco è fatto per diverse persone ed è una lavorazione che partendo evidentemente da momenti diversi perché il buon il buon benedetto dice sono appena arrivato è vero quindi tu sei in un'equity qui nascosta in cui hai fatto le prime operazioni no siccome il bambinello che iniziamo a curare adesso gli altri hanno una storia più lunga giustamente arriveranno prima di te è pur vero che anche nelle storie più lunghe a volte c'è stato anche qualche insuccesso quindi l'importante che voi vediate io perché vi ho mostrato questo grafico non per farvi vedere i rendimenti non mi interessava per darvi un discorso di coerenza sono tutti uguali fase di ascesa un po di drawdown fase di recupero sono tutti uguali le differenze sono davvero millimesimali la storia più lunga purtroppo c'è ed è oramai da gennaio di quest'anno eh attenzione è una storia abbastanza lunga perché perché noi abbiamo avuto se avete seguito un po' il progetto del top super trend a cui noi ci affidiamo per le prop a gennaio è andato un po' in crisi no abbiamo dovuto rivedere i sette e qualcosina quindi abbiamo abbiamo fatto anche un gran lavoro se mi permetti Giuseppe perché dal punto di vista pratico eravamo andati in drawdown e abbiamo fatto quasi otto punti percentuali di recupero dal punto più basso quindi a testimonianza che le fasi negative ci sono ma la capacità come dire poi di fare di tirare sulla schiena la testa c'è c'è sempre quindi abbiamo delle storie lunghissime altre brevissime dipende dal momento storico in cui evidentemente si parte ad esempio in questo momento lo vedete dall'equity l'euro dollaro sta lavorando molto bene quindi chi è partito in tempi recenti non ha mai vissuto fra virgolette fasi di negatività buon per lui eh non è che ci dispiace viceversa evidentemente chi magari ha iniziato a gennaio o febbraio ha attraversato una fase un po' critica di allora quando usavamo anche il dollaro franco svizzero che io oramai ho eliminato dalla dalla mia storia operativa nel prodotto vip challenge pass ok ciao serse allora il motivo per cui serse il 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 rapporto win win del servizio pass è proprio come lo hai descritto ad esempio ti faccio un esempio allora quando e ti ringrazio per la domanda allora quando prendo sempre come riferimento quello che il pacchetto che devo dire la maggior parte di voi sta preferendo che è questo e che onestamente mi sembra anche equilibrato allora quando il capitale iniziale del proprio di 500 mila euro non compriamo una prop da 500 k anche se ci sono perché evidentemente vorrebbe dire concentrare il rischio normalmente lo schema non ci vede neanche esagerare nel numero dei conti ma facciamo attivare al cliente in questo caso di solito tre prop due da 200 mila e una da 100 mila e montiamo una leva differenziata sulle tre prop questo proprio ad evitare che evidentemente innanzitutto che vengano bruciate io io ci tengo a dire una cosa l'ho detto forse all'inizio serse non ne abbiamo bruciate challenge siamo lenti perché io challenge non è brucio questo introduce evidentemente un concetto di di lentezza non c'è dubbio ma di bruciare le challenge qui non se ne parla perché sarebbe un'onta insopportabile quindi di concetto di bruciare challenge non c'è ciò non toglie che ad evitare quelle casistiche evidentemente straordinarie un errore il cliente che mette mano da solo non lo so qualunque cosa possa essere non non facciamo mai l'intero pacchetto su una sola challenge lo distribuiamo in quelle di 500 mila con due da 500 due da 200 una da 100 in quelle da un milione con cinque da 200 mila dopodiché andiamo ad applicare leve differenziali al momento per mia scelta oltre a questa piccola attività discrezionale da parte mia ripeto non tanto invadente non tanto invasiva scusatemi al momento stiamo lavorando solo col 7 euro dollaro che avete visto ossia questo sul servizio vip pass sta girando in questo momento il servizio il il set vip edition molto probabilmente perché il software secondo me ha più potenzialità ancora da esprimere molto probabilmente andremo poi a come dire a valutare l'implementazione di di altri software no di altre di altri non di altri di altri set penso l'ho appena detto siamo arrivati a recuperare otto punti percentuali di drawdown quindi evidentemente ho già dichiarato il max drawdown che abbiamo osservato no l'ho detto prima non è che che le nascondiamo le cose no non è poco l'otto per cento assolutamente però ci sono sempre nella vita due modi di leggere le cose no dopo il leggere in chiave pessimistiche dire sono arrivato un giorno a fare meno otto per cento oppure se sei sicuro del tuo della qualità di quello che stai facendo puoi dire wow sono riuscito a scalare un otto per cento di negatività io sono portato sempre a vederlo mezzo pieno il bicchiere poi evidentemente siamo tutti esseri umani diversi di fatto se non ci fosse stato quell'otto per cento oggi avremmo ben altri numeri su alcuni conti invece siamo lì un po' a lavorarci ancora questo si qualcuno è rimasto in ritardo innegabile ma è anche un modello trasparente e non può essere detto in maniera alternativa c'è da dire che però da appunto oramai due mesi abbiamo introdotto la nuova versione del top super trend storicamente è cambiato molto l'intero servizio l'intero pacchetto prima era un po' più come dire un po' più un puzzle chi ha seguito la storia ci sono state le challenge hft abbiamo fatto visto osservato di tutto abbiamo provato anche abbiamo fatto un'esperienza tutti quanti insieme alcune estremamente esaltanti e positive altre meno e non ci nascondiamo mai di fatto allora quando però abbiamo avuto la chiara percezione di essere arrivati anche per la scrematura di queste tutte queste prop fasulle che c'erano in giro quando abbiamo avuto evidentemente la ragionevole sensazione che il top super trend biturbo fosse arrivato su livelli di elevata qualità e fidabilità che finalmente non lo nascondo grazie anche alla presenza della prop trading academy avevamo un partner che non ci rompeva le scatole sul copy e quant'altro perché attenzione il problema è sempre lo stesso se io facessi questo servizio oggi ad esempio con una prop molto famosa che è ftmo ftmo brucierebbe i conti dei clienti perché direbbe che stiamo facendo copy trading noi abbiamo avuto la fortuna l'intuizione la chiamatela come volete di riuscire ad abbinare al prodotto della pacello trading academy la nascita della prop trading academy quindi da un lato un software un cuore pulsante di qualità un expert che non teme concorrenza secondo me magari sono un po di parte dall'altra poterlo utilizzare come avete visto su centinaia di conti senza essere tacciati di copy trading si è realizzata questa straordinaria coincidenza perché se avessimo dovuto applicare come successo in passato queste nostre strategie evidentemente con una prop alternativa alla pta prima o poi se tu porti 100 clienti da ftmo e li fai diventare tutti i fan del giro di due o tre mesi ftmo inizia a bannarteli perché ti accusa giustamente di copy trading noi questo problema con la prop trading academy per definizione per contratto non lo abbiamo e questo ha permesso poi la nascita del pacchetto che altrimenti non potrebbe esistere perché se ripeto dovessi poi portare ad essere fan dei dei clienti che poi vengono bannati dalla prop sarebbe quantomeno ingloriosa come situazione invece no oggi il nostro modello di business è concentrato principalmente dalla prop sulla prop trading academy patti chiari amicizie a lungo e siamo molto contenti adesso non vi posso mostrare il back office però io vedo ogni mattina le challenge del gruppo vip che si avvicinano alla soglia e ne sono particolarmente orgoglioso dopodiché non me ne sono accorto ma ho chiacchierato per 50 minuti ho risposto anche a delle vostre bellissime intelligenti domande come detto all'inizio non voglio abusare assolutamente della vostra cortesia quindi mi preparo a salutarvi spero di avervi come dire presentato o meglio fatto un po di ordine più che presentato perché alcuni di voi magari già queste cose le hanno più o meno sentite no c'è questa grande innovazione della nuova release del top super trend biturbo sicuramente c'è questa grande innovazione che pochi di voi conoscono perché i nostri commerciali hanno fatto un po una selezione di persone hanno chiamato delle persone che ritenevano potessero essere come dire compatibili col prodotto vip pass e hanno avuto ragione perché stiamo avendo un grande riscontro giuseppe per quanto riguarda il vip pass stiamo cercando di davvero di di capire che tipo di utenza abbiamo di fronte allora quando abbiamo un'utenza faccio un esempio il buon benedetto si è dichiarato il buon benedetto è una persona che ha detto sì pensateci voi non ha palesato fra virgolette un interesse nel gestirsi lui anche qualcosa di alternativo viceversa allora quando invece una persona come te che usi anche il super trend volesse avere una sorta di di ibrido beh in quel caso in qualche modo nell'acquisto di un vip pass challenge di size a b o c riusciamo a comprendere anche un utilizzo individuale del top super trend biturbo cioè siamo molto aperti Alessandro io non so se tu hai bisogno di noi perché sei un espertissimo del top super trend biturbo però un domani potresti dire bene io voglio continuare a far da me però voglio che nel frattempo qualcuno mi porti verso l'agoniato successo secondo me pietro ce la può fare bene ci chiami e ci ragioniamo su abbiamo sempre un occhio di riguardo per voi che oramai ci avete dato fiducia in varie forme fiducia vuol dire aver partecipato a un corso aver comprato le a aver fatto tante cose oggi mi ha chiamato uno di voi e mi ha detto pietro per il mio compleanno voglio una challenge sconto cinquanta per cento ma non ne fate più è vero non ne facciamo più e non ne faremo più però il giorno del compleanno chiamami e farò un coupon solo per te per dirvi questo questa personalizzazione con le persone mi scrivete anche a luna di notte a volte la a volte la cosa mi infastidisce però mi testimonia assolutamente che c'è un rapporto ripeto che valdi la poi delle tante chiacchiere che si sentono in giro io a questo ci tengo tanto a volte un po' stancante un po' stressante e a volte evidentemente è una forma di gratificazione quindi io ci sono sempre lo sapete sono davvero in prima linea sono qua con voi alle 10 di sera è chiaro che sono anche evidentemente interessato ad avere successo nelle iniziative che vi vado a proporre ma l'importante ci sono sempre soprattutto e ci metto qualcosa di più della faccia allora quando le cose non dovessero andare come come auspicato questo lo sapete questo è giusto che lo sappiano tutti è il marchio di fabbrica detto ciò dal punto di vista pratico questo è il futuro il futuro della pacello trading academy vede appunto veicolare due proposte da un lato quella tradizionale del top super trend biturbo 5.3 che stiamo distribuendo a tutti coloro i quali hanno licenza valida quindi attenzione chi ha le licenze in scadenza o chi vorrebbe usarlo contatti sempre commerciale chiocciolapietropacello.com in alternativa o perché no anche in abitamento se ne può discutere c'è poi il servizio vip pass challenge che per me è un grande divertimento me la sento non c'è una marginalità economica gigantesca ve lo posso garantire però è una bella challenge che mi dà molta motivazione che affronto con grande con grande convinzione sono sicuro che in molti di voi ci diranno grazie intanto vi devo ringraziare io ok bene con questo è tutto vi ringrazio ancora una volta e vi ricordo guardateci in quelle che sono le iniziative del momento di pass challenge in abbinamento con la prop trading academy che peraltro ma credo che oramai siano esaurite è venuta fuori con uno sconto straordinario per dieci conti pochi minuti fa quando ho iniziato il webinar ma credo conoscendovi che oramai siano andate tutti comunque se avete bisogno di noi sapete dove siamo contattateci e vi aspetto perché sono convinto che stasera qualcuno di voi si sarà come dire fatto affascinare perché è un prodotto affascinante dal vip pass challenge parliamo di numeri di cifre di proporzioni di capitali ed è stato strutturato con quest'ottica importante si fanno spesso degli investimenti nel settore della formazione del trading finanziario qui c'è una tangibilità diretta spendo 6.000 questi mi metteranno a disposizione 500.000 faranno l'impossibile per riuscirci ci metteranno un mese due tre quattro non lo so ma se non ci riescono entro sei mesi mi ritirano via i soldi indietro e questo credo sia un win win di particolare consistenza grazie ancora a tutti buon proseguimento di serata e soprattutto buone vacanze per chi se le sta godendo io inizio fra un po ciao a tutti grazie a tutti